Ciao ragazzi a tutti bentornati al mio canale, io sono Dragongest e oggi 16 febbraio 2023 andiamo a vedere cosa c'è di disponibile nel negozio eccetti di Fortnite in evidenza in primo piano abbiamo la bellissima nuova emote shout poi abbiamo Carlino e quindi il ritorno del pacchetto velocità vorace e quindi Ana e l'emote tornado spin scendiamo e abbiamo il bundle sondate dal sole con falco solare e mesmer e poi nelle giornaliere abbiamo armadillo e miss volei e l'emote movimenti eleganti scendiamo e abbiamo tutti i bundle che avevamo già visto precedentemente ricercati con follia, tutti ricercati con colpo, jolly, comandante, scarlatto, elite, cremisi hopper, goldi, percussore stradale, graffiaro benefico, mamma mia, questo non riesco mai a leggerlo e poi ancora complex, abstract, razza, squalotoro, furfante, canaglia, riley l'avviatore, ombra, rinnegata, testa, dosso, incursore, rally, bundle, scagnozzo gendarme ombre, gendarme spettri kid, laroi, uncharted, l'amore è nell'aria con uomo caramella spina d'amore, ranger dell'amore, cuore di pietra e quindi l'amore è nell'aria con spaziale fiore del sogno e tutti le skin di san valentino batti cuore, re delle coccole, sempre centro, ex regina di cuori, spezza cuori, cotta, pinki, schelli, tess ragazzi insomma sono ancora tutte presenti siamo arrivati al bundle offerte speciali della epic sono stati aggiunti i pacchetti incarichi ranger dell'amore perduto e pacchetti riflessi scuri che su quest'account non avevo ancora preso comunque va benissimo ritorniamo subito in alto e mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanella condite il video con i vostri amici e lasciate un mega mi piace andiamo subito a vedere le emot shout serie di icone emot shout ragazzi 400 vbug non si vede bene perché ovviamente le ragioni di copyright emot sincronizzata ragazzi da fare insieme andiamo via e torniamo indietro quindi Carlino 1500 vbug baobang il set in cui fa parte è stagione 9 con più stili selezionabili predefinito festivo e militare ragazzi bello 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 lecca ciotola il suo dorso decorativo da 1500 vbug prima o poi lo devo prendere mi piace mi piace molto sacchetto per il cane il dorso decorativo non comune del capitolo 2 stagione 2 200 vbug ragazzi si fanno delle belle combo con questo sta bene anche con il mio bello 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 200 vbug ragazzi ed è il nostro giocattolo da masticare 500 vbug ragazzi e fa parte sempre del set baobang stagione 9 baob la copertura sempre della stagione 9 del set baobang 300 vbug ed è il nostro scendiamo e abbiamo il pacchetto velocità vorace caleritas costume epico il suo dorso decorativo manto anima e quindi lo strumento di raccolta slancio e poi la bellissima copertura accelerazione è una copertura animata e reattiva sguaina il piccone slancio dal dorso decorativo manto dell'anima quando entrambi sono equipaggiati 1600 vbug ragazzi per questo mini bundle e poi abbiamo la bellissima hana stili selezionabili lo stile hana tuta da corsa e giacca a casco ragazzi reattivo sì e reattivo no e possiamo cambiare tutta la colorazione anche rendendola attiva tutta la colorazione ragazzi delle fiamme che ha sulla tuta e che fuoriescono bellissima e poi sotto il strumento teschio di cheleritas 1500 vbug ragazzi hana si incendia con le eliminazioni e lascia una sciglia di fiamme quando si muove capitolo 4 ovviamente stagione 1 demone decadente il set di cui fa parte bella 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 possiamo poi prendere tutto ragazzi in modo singolo ma cosa dico tutto in modo singolo è proprio singolo spada a scatto versatile eccolo qui strumento di raccolta non comune da 500 vbug fa parte del set demone decadente sempre del capitolo 4 stagione 1 stupendo longboard volante eccolo qui demone decadente sempre nel set di cui fa parte più stili selezionabili possiamo andare a cambiare la colorazione ragazzi del nostro skateboard come potete vedere al suo interno bello bello 800 vbug ragazzi e ce lo portiamo a casa tornato spin eccolo qui 200 vbug ragazzi e ci portiamo a casa questa bellissima emote poi scendiamo e abbiamo la copertura cerca adrenalina 500 vbug copertura animata e reattiva stupenda e poi troppo veloce la musica da 200 vbug devo metterla sul canale cercherò di farlo il prima possibile torniamo indietro ragazzi ed eccolo qui scendiamo abbiamo i bacchetti soldati del sole 2400 vbug per questo pacchetto la bellissima falco solare più stili selezionabili lo stile predefinito senza maschera falco della luna e quindi falco della luna senza casco wow bella il suo dorso decorativo ali del sole ragazzi stili selezionabili predefinito e luna e quindi il deltaplanazzo alba e ancora il bellissimo mesmer costume raro c'è a chi piace e a chi no a me ragazzi piace piace molto e particolare più stili selezionabili il predefinito ed il trance o trance come volete voi insomma e poi dorso decorativo ipnotico bello ragazzi mi piace molto con più stili selezionabili il predefinito ed il luna e poi abbiamo lo strumento di raccolta ascia seca ragazzi anche questa qui bella qui dovevano mettere però i due stili doveva diventare anche viola peccato peccato 2400 vbaga ragazzi per tutto il bundle poi possiamo prendere tutto in modo singolo e questa volta c'ho ragione falco solare a 1200 alba ad 800 mesmer 1200 e ascia seca ad 800 scendiamo e vediamo l'ultima sezione le giornaliere per oggi abbiamo armadillo costume da 800 vbaga stagione 5 pelle dura e spirito guerriero stupenda ragazzi 800 vbaga ed è il nostro miss voli eccolo qui costume raro stagione 7 abbiamo lei e il suo dorso decorativo racchetta usata 1200 vbaga bella bella armature lo strumento di raccolta non comune della stagione 7 del set squadra tecnica 500 vbaga ragazzi ed è il nostro migliori amici la musica da 200 vbaga del capitolo 3 stagione 1 premi play e fai del tuo meglio sagace la copertura non comune capitolo 2 stagione 4 300 vbaga ragazzi ed è nostra eccola qui bella 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 movimenti eleganti è la bellissima eh aspetta aspetta giro ti giro ti clicco ok perfetto movimenti eleganti ragazzi l'emote epica della stagione 6 falli andare in essaci 800 vbaga ragazzi ed è nostra bellissimo ragazzi per quanto riguarda tutto il shop lo shop no il shop non si dice per quanto riguarda lo shop di oggi ragazzi tutto è finito io ritorno in lobby e qui vi do appuntamento allo shop di domani mi raccomando ragazzi richiedetemi l'amicizia eccolo qui dragonge strattino yt per diventare miei amici e ricevere regali direttamente all'interno del vostro armadietto io qui vi saluto e per questo video è tutto mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanellina condividete il video con i vostri amici per darmi una mano e lasciate un mega mi piace ci vediamo al prossimo video ragazzi ciao ciao ciao